Far conoscere ai giovani le conseguenze del bullismo e i seri danni provocati dall'uso delle droghe. È un primo passo per diffondere nella BAT la cultura della legalità. Nasce con questi obiettivi a Barletta il presidio di Libera, l'Associazione Nazionale contro tutte le mafie. La presentazione ufficiale si è svolta nel Teatro Curci di Barletta. L'idea, patrocinata dall'amministrazione comunale, intende rafforzare la presenza dell'Associazione nella provincia di Bari per essere più vicini ai giovani e far conoscere loro l'importanza del vivere secondo i principi della legalità. Per noi legalità è la legalità democratica, cioè una legalità che deve coinvolgere tutta la cittadinanza, tutta la società, per il raggiungimento di una, attraverso la responsabilità di ciascun cittadino, la responsabilità sociale, per il raggiungimento di una giustizia sociale. Questo è l'obiettivo.